Adesso li vediamo, ora non li vediamo più e poi eccoli di nuovo. Il governo fa il gioco delle tre carte, con i 50 milioni destinati alla bonifica e alla reindustrializzazione della Val Pescara. Pochi giorni fa la notizia che il Ministero dell'Ambiente ha ridestinato la somma stanziata, fin dal 2011, al Ministero dell'Economia. Poi la retromarcia del sottosegretario all'Ambiente Morassut, del Partito Democratico, che ha rassicurato che i soldi saranno comunque investiti nell'area del SIN di Bussi sul Tirino. Mi pare che ci sia in generale una grande confusione. Morassut ha cercato di mettere una pezza a colori al comportamento del suo Ministero, che ha annullato una procedura per la quale ci sono voluti anni. Il governatore Marsilio, nel rispondere a Morassut, ha chiesto che la bonifica venga affidata alla Regione, ma una sentenza del Consiglio di Stato già condanna l'Edison ad occuparsi dei lavori, in quanto responsabile del disastro ambientale. Mari Fondazione e le associazioni ambientaliste alzano la guardia, occhio a un eventuale tombamento. Tombare i rifiuti e lasciarli sottoterra, laddove sapete che si trovano, costa di meno che rimuoverli tutti, portarli altrove e fare una bonifica integrale. E quindi è evidente che, dato che la Edison è stata condannata a pagare i costi della bonifica, che predilige quella soluzione. Il mio problema non è cosa vuole fare la Edison, ma che si ha la sensazione che il Ministero dell'Ambiente lavori per la Edison, invece di lavorare per una comunità come quella della Val Pescara, che ha subito le conseguenze dell'inquinamento chimico per decenni. Intanto la questione si ingarbuglia ancora di più, col Ministero che ha manifestato l'intenzione di annullare il bando del 2018 con cui si erano assegnati i lavori di bonifica. E questo perché dovrà essere la Edison a pagare, ma il rischio è che nel frattempo i lavori siano sempre più un miraggio. Dopo la sentenza, e questa è una cosa gravissima, quella che era una vittoria per i cittadini e le cittadine del nostro territorio si è trasformata in una sconfitta, perché si è presa a pretesto la sentenza per affrettatamente annullare una gara e quindi ripartire si immagina tutto da capo.